Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale, mi chiamo Gianluca Ragnari Bandini, sono un trader e un investitore. Ma cosa stiamo assistendo oggi sui mercati finanziari, soprattutto per quanto riguarda il nostro indice ragazzi? Ora diciamo da poco ho passato mezzogiorno e qui mi segnala un più 14% come rialzo. Io come sapete trado dal 2008, insomma seguo i mercati e mi ricordavo che il record di rialzo del nostro indice fosse poco superiore al 10%, tra il 10 e l'11%. Ora vado a memoria, non sono andato a controllare ma più o meno era quello il valore. Quindi rischiamo e per fortuna speriamo oggi di chiudere con il rialzo più importante della storia. Poi è chiaro che da qui alle prossime ore potrebbe cambiare tutto perché abbiamo visto come gli eventi sono veloci e esasperati in questo periodo. Questo conferma la teoria che ormai è proprio una realtà, come le giornate di rialzo più importanti nei mercati finanziari seguono quelle più difficili e drammatiche. Infatti ieri abbiamo registrato un meno 17%. Guardate che candela ragazzi, impressionante qua sui mercati finanziari quella di ieri. Veramente è stata una cosa pazzesca. E' la più importante a livello negativo della storia. Quindi quando succedono queste cose è perché bisogna stare molto attenti e non fare degli errori, proprio perché ci si potrebbe poi perdere i rialzi più importanti. Quindi è chiaro, bisogna avere delle stop loss, bisogna uscire a volte dal mercato. Però vendere tutto il proprio portafoglio dopo che si è preso mai una batosta del 30-40% sull'azionario, semplicemente perché c'è stata la peggiore giornata in assoluto, poi si rischia di perdere questo tipo di rialzi. Ovviamente ragazzi non abbiamo la sfida di cristallo e può darsi che stasera chiuderemo a più venti oppure di nuovo in territorio negativo. E' estremo il mercato in questo momento. E' per quello che è difficile prendere delle decisioni in maniera disinvolta e giuste, soprattutto sui portafogli di lungo termine. Bisogna sempre pensarci prima, perché poi come le andiamo ad affrontare queste situazioni? E' quello il fatto. Bisogna a priori darsi delle regole che ci consentiranno di poter sopravvivere in qualunque mercato, di sopportare delle perdite tramite mediazioni, piani di accumulo, oppure di uscirne molto molto prima. Però vi voglio anche parlare di quello che si chiama rimbalzo del gatto morto. Perché? Perché vedete qui com'è sceso prepotentemente l'indice, praticamente senza soluzioni di continuità. C'è stata soltanto una piccola parentesi con un paio di candele. Vediamo qui il 26 febbraio e il 4 marzo. Che non avevano neanche... beh, fino a loro diciamo avevano anche dei corpi importanti. Ma poi quello che abbiamo visto dal 9 marzo in poi... Sono irrisore rispetto ai movimenti di questi ultimi giorni, che in realtà sono veramente veramente anomali. Infatti siamo tornati, se andiamo a vedere, indietro di non so quanti anni, ragazzi, in sole 3 settimane. Se ora mettiamo qui il grafico a 5 anni, vediamo un po' se ce lo carica. Sicuramente ci accorgeremo che si è andato a bruciare anni e anni di capitalizzazione. Ragazzi, purtroppo quando lo sta caricando. Anni e anni di capitalizzazione in 3 settimane. Guardate, andiamo indietro nel tempo. Ora carica, ad esempio, qui fino all'11 gennaio 2019. Però vi dico che se riusciamo a avere un grafico un po' più ampio... Ok, non ci aiuta adesso il trading view. Però vi dico che insomma sono tornati indietro di molti e molti e molti anni in soltanto 3 settimane. E ha fatto veramente impressione. Io pensavo di averle viste tutte grazie al 2008. E invece ieri abbiamo visto delle cose incredibili. Poi come ho promesso farò anche un video sul perché è andato tutto quanto giù. È tutto quanto precipitato. Ora non ci aiuta per nulla la piattaforma. Quindi facciamo una cosa. Andiamo qui. Vedete qua questo rimbalzo? Nessuno ci assicura ovviamente che questo sia il bottom in area più o meno 15.000. Il rimbalzo del gatto morto è tipico dei mercati che scendono in maniera esasperata. Proprio delle fasi ribassiste, recessive, pesanti dei mercati, dei crolli. È chiaro che ci sono dei rimbalzi a livello tecnico. Quindi cosa potrebbe accadere? Che va giù come un gatto che precipita dal trentesimo piano e andando sul suolo fa un piccolo rimbalzo dal suolo verso l'alto e poi ritorna giù per morire definitivamente. A parte che comunque è una metafora veramente macabra. Però diciamo è questa che si suolta utilizzare e dire nei mercati finanziari. Io comunque stra amo i gatti. È un po' orrorifica come metafora. Sì, però funziona così. Quindi c'è un rimbalzo ragazzi e poi inesorabilmente torna giù e va addirittura a creare dei nuovi minimi. Quindi massima massima attenzione a pensare che questo sia il bottom. Ovviamente nessuno lo sa. Può darsi anche che sia così ragazzi. Ma non dobbiamo dare per scontata questa cosa perché ora stiamo dando un rialzo del 20% o di quello che sarà. Veramente numeri impressionanti. Non avevo mai visto una giornata del genere né al negativo né al positivo sul Fiuzzi Mib. Fa veramente impressione. Quindi dopo il mega crollo adesso per ora il super super rimbalzo. Tipico dei mercati. Ma a volte è una questione tecnica e non diciamo di fondamentali. Quindi massima attenzione a buttarsi adesso in questo momento sul mercato solo perché lo si vede risalire. Come vendere tutto con mai un portafoglio compromesso solo perché abbiamo una giornata estremamente negativa. Razionalità ragazzi. Appresso con nuovi nuovi aggiornamenti. Oltre a fare il video sul perché ieri è crollato tutto. Lo facciamo con calma. È più così a livello generale per spiegare quelle che sono le dinamiche. Anche il perché ci sono dei movimenti così forti, repentini e profondi che non abbiamo mai visto nella storia dei mercati. E poi vi segnalo a breve, voglio anche segnalarvi le aziende che sono finite nel mio mirino dopo questi ribassi. Che potrebbero benissimo non essere finiti. E parlo proprio a livello internazionale perché voi sapete io amo soprattutto investire su aziende straniere del mercato internazionale. E in particolare di quello americano. E perché le ho puntate, sono un bel po', in quali fasi magari penso di andarle ad acquistare. Sono tutti ovviamente i miei ragionamenti ragazzi, non saranno dei consigli finanziari. E proprio perché ho puntato quelle e le diverse fasi in cui potrei farlo. Quindi parleremo di fondamentali soprattutto, in più aree tecniche di acquisto. Va bene, a dopo ragazzi. Ciao.